Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli. Mercoledì 5 luglio, bentrovati all'appuntamento con la rassegna stampa di TVI Molise. Ma prima di passare alla lettura dei giornali, iniziamo parlando della regione che cerca un giornalista per la comunicazione dei bandi comunitari per l'agricoltura. Fatto sta che l'avviso pubblico ha sollevato un polverone troppo stringenti. Infatti i requisiti sembrano tagliati su misura e così l'ordine ne chiede l'immediata modifica. Il servizio è del direttore Enzo Di Gaetano. La regione Molise cerca un esperto nelle comunicazioni dei programmi di sviluppo rurale e lo assumerà per 24 mesi con 120 giorni di lavoro all'anno e uno stipendio di 30.000 euro. Ma i requisiti specifici di ammissibilità della candidatura hanno sollevato perplessità e dubbi tra i giornalisti molisani, tanto che il presidente dell'ordine Enzo Cibino ha indetto una conferenza stampa. Vengono chiesti dalla regione una laurea in lettere, comunicazioni o comunque umanistica, esperienza lavorativa superiore a 5 anni nel settore comunicazione dello sviluppo rurale o 10 anni nel settore comunicazione dei programmi nazionali e comunitari. Infine l'iscrizione all'ordine dei giornalisti da almeno 8 anni. Insomma, criteri che sembrano già far individuare il vincitore o la vincitrice, come afferma Cimino. Mancano le iniziali, possiamo anche aggiudicarlo. L'ordine dei giornalisti del Molise, ha detto Cimino, si riserva di intraprendere tutte le azioni possibili e onde a divenire ad una rapida rimodulazione del testo non ultimo in ricorso alle vie legali, che sono consentite all'ordine quale ente di diritto pubblico a tutela della categoria. Nel momento in cui preparano degli avvisi pubblici che riguardano la categoria del giornalista ho sempre detto chiamateci, lo facciamo insieme, vi diamo una mano, oppure cercate di istituire una commissione giudicatrice e l'ordine è a disposizione. Come organo super partes, è uscito un bando. Noi lo riteniamo modificabile entro il 31 luglio per i criteri troppo stringenti per l'accesso. L'anzianità professionale di 8 anni, un tipo di laurea non corrispondente alla nostra categoria e soprattutto anche l'esperienza maturata sul campo da chi ha emesso questo bando. Pensiamo che chi ha svolto lo stesso lavoro in Basilicata, Puglia, Lombardia e Veneto non possa partecipare. Noi riteniamo che ci sono degli ingredienti di questo bando che vadano a modificare. In autotutela se lo faranno saremo contenti, se non lo faranno siamo pronti a impugnare il bando e a chiedere di essere ascoltati dalla Procura della Repubblica. Ma a questo speriamo di non arrivarci. E siamo ora al nostro touchscreen per le notizie del giorno. Iniziamo dal quotidiano online, il quotidiano del Molise. Regione, nuova o vecchia giunta, dimissioni e assessori o ritorno della surroga. Questa è appunto l'ipotesi in campo. Molise oggi, andiamo avanti, eccidio nazista di Fornelli, 12 milioni alle famiglie delle vittime. Lo Stato italiano quindi pagherà le famiglie delle vittime con 12 milioni di euro. 600 mila euro per il comune, pubblicato il decreto ufficiale. Grande vittoria per il comune molisano, soddisfatto il sindaco Giovanni Tedeschi. Andiamo ora sui cartacei, siamo su Nuovo Molise, saranno gli italiani a pagare la strage appunto dei nazisti a Fornelli. La decisione vergognosa di Draghi confermata da Meloni. E poi in alto la presentazione questa mattina alle 11.30, un venafrano molto fermo, Luigi Di Clemente, il nuovo questore della città marchigiana, la sua carriera. E poi l'interruttore dell'autismo, la ricerca alla neuromedia di Pozzille, i ricettori delle cellule nervose che possono decidere del disturbo su base genetica. E poi ancora, come ti faccio a pezzi il PD, le accuse di Maria Concetta Chimisso, con Schlein il partito rischia all'estinzione, la fondo di De Luca, una cacicca che non ha i voti. E poi ancora i solisti di Zagabria per il festival Ia Nigro, il concerto oggi al teatro romano di Sepino. Andiamo all'interno del giornale. Appunto, come dicevamo, saranno gli italiani a pagare la strage dei nazisti a Fornelli. Il risarcimento per l'ecidio nel comune molisano sarà attinto a un fondo di 61 milioni di euro istituito dal governo di Super Mario come misura urgente per l'attuazione del PNRR. Fornelli, Germania, 1 a 0, dice il sindaco tedeschi. Non è così a perdere vite e pure denaro. Purtroppo è solo l'Italia. Spostiamoci sulla pagina successiva. Come ti faccio a pezzi appunto il PD. Come dicevamo poc'anzi con Schlein, questo partito ora rischia l'estinzione. A dirlo è la dimissionaria, vice segretaria regionale Chimisso. La fondo poi di De Luca, una cacicca che non ha i voti. Andiamo avanti. L'interruttore dell'autismo. I ricettori delle cellule nervose che possono decidere appunto del disturbo su base genetica. la ricerca condotta presso la Neuromed di Pozzilli. Bene, lasciamo Nuovo Molise per spostarci invece su primo piano. In prima pagina sconfitta Federico lascia, però Conte respinge le dimissioni. Ieri il vertice con il capo del movimento. Serve ricominciare dal basso. Non sarebbe giusto adossare la colpa solo al coordinatore regionale. Il centrodestra avrebbe vinto anche con Toma. Al summit pure Gravina e Greco. E poi Toma che trasloca il terzo piano. Sarà commissario fino a Nuovo Ordine. Presidente uscente infatti si insedia nella stanza del sub Bonamico. Continuiamo a lavorare in attesa delle decisioni del governo. E poi ancora la viabilità K.O. Un giorno feriale sulla Trignina. Sei semafori. Due ore per percorrere 70 chilometri. E poi ancora eccidio di Fornelli. Lo Stato risarcisce i familiari delle vittime. C'è il decreto. Dentro la notizia scacco alla banda. Rubavano Fiat Panda da Termoli al capoluogo. Fermati dalla Mobile. E poi bandi elettorali. Assunzioni. Bufera sull'Assap. Prende posizione l'ordine dei giornalisti. E poi dalla regione. Imprese agricole colpite da nubi fragi. Prorogata al 15 luglio la scadenza per segnalare i danni. Spostiamoci all'interno di primo piano. Leggiamo la pagina politica. Come dicevamo Federico si dimette. Conte lo blinda. Ingiusto dare solo a lui le colpe della sconfitta. Ieri il chiarimento con gli esponenti locali dei 5 Stelle. L'ex deputato resta coordinatore. Rilancia. Bisogna ripartire da capo. E costruire la classe dirigente dal basso. E poi le destre che trionfano cavalcando la paura. Noi non ci arrendiamo. Questa è l'analisi del voto di sinistra italiana. E movimento equità. Andiamo ora sulla pagina successiva. Toma si sposta al terzo piano. Lo abbiamo detto prima. Sono commissario della sanità. Trasloco del presidente uscente in attesa del cambio della guardia. Insieme al sub buon amico. Sto continuando a seguire partite complesse. E poi come avete sentito poc'anzi nel servizio. Bando dell'Arsap per comunicare il PSRR. L'ordine dei giornalisti chiede modifiche. Oppure sarà impugnato. Siamo ora sulla pagina di Campobasso. Strade disastrate. Centro invaso dai ratti. Non c'è più tempo da perdere. Il consigliere Mario Annuario torna a bacchettare l'amministrazione comunale. Ora basta. I cittadini attendono risposte. E poi ancora percorso pedonale in sicurezza e privo di barriere architettoniche. Partiti i lavori in via Cavour. Da Campobasso ci sposiamo su Isernia. Legalità. Il patto per tutelare l'economia sana. Sottoscritto il protocollo d'intesa tra la prefettura e la camera di commercio del Molise. La mission prevenzione e contrasto dei fenomeni di infiltrazione criminale. Grazie alla piattaforma Rex. E poi l'odissea sulla Trignina. 70 km in due ore. E non c'entra il traffico della domenica. Sei cantieri e altrettanti semafori. La riduzione della careggiata nell'unico punto dove è possibile superare. E lì dal crollo del ponte Morandi sono passati cinque anni. Andiamo avanti. Siamo ora su Venafro. Abusivismo edilizio. Toleranza punto zero a Venafro. Carabinieri forestali in azione. Il Comune ha emesso un'ordinanza di abbattimento delle opere realizzate senza autorizzazione. E poi la promozione del territorio che passa anche attraverso il servizio civile. Venafro da scoprire grazie alle pagine social create da due giovani del posto. Chiudiamo primo piano Molise con la pagina di Termoli. Estate sicura. Le istituzioni fanno quadrato sulla costa. Riunito dal prefetto Lattarulo e il vertice di coordinamento con le forze di polizia. Esteso ai sindaci dei comuni litorani. E poi ancora lo sciopero dei metalmeccanici. I confederali rilanciano da Fossa Cesia il dilemma Termoli. Leader della Wilm Palombella dice servono ammortizzatori sociali lunghi. Lasciamo le notizie regionali. Ci spostiamo ora sulle prime dei quotidiani nazionali. Partiamo dal Corriere della Sera. Titolo principale Mosca alla guerra del grano. Disdetto il patto per sfamare i paesi poveri. Trattativa per liberare l'inviato del Wall Street Journal. E poi bloccate le navi ucraine. Putin con India e Cina. Noi costruiamo l'antinato. In alto Salvini, Le Pen, Berlusconi sdogano il movimento sociale italiano. Tensione nella maggioranza sulle alleanze. E poi il ministro Antonio Tajani che dice serve un fronte realista per battere la sinistra a centropagina. Questa fotonotizia la vedete appunto nell'immagine. Intrappola a meno 150 metri. Ottavia ora è salva. La speologa riemerge dopo 48 ore. Ho fatto, ha detto, un guaio. E qua invece è di spalla. Giornalista aggredita. Non scrivere calci, dita rotte e testa rasata. Le hanno spezzato le dita e rasato la testa. Non devi scrivere niente. Hanno detto alla giornalista russa l'aggressione è avvenuta in Cecenia. Lasciamo il Corriere della Sera. Ci spostiamo sulla Repubblica. Bombe italiane per Kiev. Questa nella fabbrica delle munizioni. Dalla RVM, Sarda, alla difesa ucraina. 23 mila proiettili per cannoni e tank. Se non ci fosse la burocrazia potremmo raddoppiarli. Le forniture belliche servono a sostenere la controoffensiva di Zelensky. I vertici dell'Unione Europea chiedono di aumentare i ritmi di produzione. E poi ancora, picchiata e umiliata, la vedete questa giornalista, Elena Milascina, la reporter erede di Politvozkaia. E poi ancora l'intervista al ministro di Fratelli d'Italia, Crosetto, niente sconti, a Marine Le Pen. Andiamo avanti. Ci spostiamo ora sul Fatto Quotidiano. Il titolo principale è Sant'Anché, la russa, in conflitto di interessi. Due cappelli, ieri lei lo consulta, oggi lui lo presiede l'Aula. Meloni incoerente, chiedeva di missioni, di ministri per molto meno. Ora invece la difende. Intanto al turismo inizia il fuggi-fuggi di aziende, funzionari e uomini dello staff. E poi in alto, ufficiali e VIP saltano il traffico col ponticello aereo di 20 chilometri. Il comando sono voli addestrativi. Cambiamo schermata. Ci spostiamo ora a vedere qual è l'apertura del sole. 24 ore che apre appunto sulla Cina, con riserve e ombre per 3 miliardi di dollari. Questo è il tesoro di Pechino. Per le stime del China Project, enormi somme non risultano da dati ufficiali. Pechino userebbe le risorse valutarie per realizzare i propri obiettivi strategici. E poi sfuma il vertice. La Cina chiude la porta a Borrell, stretta degli Stati Uniti sui servizi clude per aziende cinesi. Ancora allarme dell'Europa. Pechino frena le esportazioni di metalli rari usati per difesa e pannelli solari. Ancora banche. Italia in coda per i prestiti erogati alle pubbliche amministrazioni europee. Il rapporto di WIF, riciclaggio, più segnalazioni, ma la pubblica amministrazione assente. Evasione fiscale in aumento. Ancora sorpresa, la bolletta del gas scende dell'1,1% nel mese di giugno. Andiamo ora su Il Mattino. Autonomia, un colpo dai saggi. Riforma Calderoli. Si spacca il comitato per ILEP. Via Amato, Bassanini, Gallo e Paino. Su scuola, sanità, infrastrutture, servizi essenziali a rischio. Fratelli d'Italia apre alle modifiche. Poi verso il voto europeo. Meloni, la missione polacca per il patto dei conservatori. Qui a centropagina la vedete ancora. La giornalista brutalizzata in Cecenia per le denunce. la vernice dell'odio appunto su Elena. Andiamo avanti, ci spostiamo ora sulla stampa. Aerei, spiagge e ristoranti. L'estate più cara di sempre. Per ogni famiglia stangata da 800 euro a settimana. Torino, biglietto del bus addirittura 2 euro. Verso l'accordo tra esecutivo e AB intesa sulle tensioni delle rate dei mutui. Ancora Salvini, io con le pen, Meloni vola in Polonia. Queste le alleanze appunto nello scenario europeo. E poi il coraggio di Elena, la giornalista picchiata. E cosparsa di vernice tossica in Cecenia. Poi c'è il racconto di altre due donne. Se i talebani hanno paura della bellezza di noi donne afghane. E poi i diritti ad Ela, perseguitata dall'ex ai domiciliari. Suicidia per il terrore. Dalla stampa ci spostiamo su Avvenire. Mortalità cronica, il titolo, la mappa dei 42 siti più inquinati dove ogni anno muoiono 1668 persone in più. Ritardi sulla transizione a energie rinnovabili, interventi forti oppure la temperatura salirà. In alto giornalista aggredita, dita spezzate e capelli rasati e la libertà in Russia. Lasciamo anche Avvenire, ci spostiamo su Il Giornale. Fondi dell'Unione Europea, una truffa tira all'altra. L'allarme di Banca Italia, c'è chi dirotta all'estero i finanziamenti del PNRR. Dopo ecobonus e reddito di cittadinanza ci risiamo con gli imbroglioni. E poi il nodo stipendi, aumentare la produttività, solo così si alzano i salari. E poi gli esperti che si dimettono, il boicottaggio dei prof, sgambetto all'autonomia. Ancora l'annuncio di Salvini, supertassi, c'è il piano salvamutui, governo impressi sulle banche per allungare le scadenze. Ancora l'avvocato palestinese che vive a Genova, raccoglie soldi per i terroristi. L'amico di Dibba finanzia Hamas, attentato a Tel Aviv, vendetta per Genin. Andiamo avanti, ci spostiamo ora sul manifesto. Rifiuto differenziato, questo è il titolo in evidenza. Perde pezzi il comitato voluto da Calderoli per far partire l'autonomia differenziata. Giuliano Amato e altri sei esperti scoprono che non ci sono più le condizioni per lavorare alla definizione dei LEP. E si dimettono. La secessione dei ricchi scricchiola e per Meloni va bene così. E poi la fuga eterna da Yenin in Vasa, reportage dalla città palestinese sotto attacco israeliano. Andiamo avanti. Ci sposiamo sul Libero. Taroccata Giorgia, la Repubblica delle Banane, così apre appunto Libero. Il giornale di Molinari attacca il Premier pubblicando una sua foto in vacanza. Peccato che sia vecchia di anni. E poi la trattativa tra Giorgetti e le banche, ecco il piano contro il caro Mutui. L'idea del Governo è congelare i rialzi della rete allungando la durata dei finanziamenti. Andiamo infine a concludere con le notizie della Gazzetta dello Sport. Frattesi, l'Inter fa centro dopo Turam, un altro punto, un altro colpo. Marotta scavalca tutti e ottiene il sì. Alza suolo 27 milioni e Mulattieri. E poi ancora Milan, pressing su Reinders, sfuma l'azzurro. C'è infatti l'olandese, c'è l'intesa con il giocatore, vicino anche l'ok della Zeta. Si può chiudere a 20 milioni. Bene, come sempre, con la rassegna termina, scusate, con la gazzetta termina la nostra rassegna. Ne salutarvi, vi rimando al prossimo appuntamento in diretta, che è quello delle 14 con il nostro telegiornale. Intanto l'augurio di una buona giornata. Questa rassegna stampa è offerta da ICM, Istituto Clinico Mediterraneo di Agropoli. Radio Surgery Center di Agropoli.